segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te avrebbero pensato che già potesse avere bisogno di loro ma ci sono sempre stati allora sentivo bersani prima da lilli no diceva questo è un genere umano non è il colpevole non cerchiamo i nomi perché volete che in questo parlamento non ci siano persone così sta probabilmente ai leader individuarli però che ci siano lo dobbiamo dare per scontro questo dimostra che l'opposizione una parte dell'opposizione non ha una nozione compiuta di che cos'è questa destra e di che stagione si apre oggi nel nostro paese temo che quello non l'abbia tutta l'opposizione se non non sarebbero andati divisi in tre a delle elezioni che chiedevano di unire e questo questo è un punto ma giovanni floris parlava delle cose da fare del problema ma poi di...